Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di Siderweb, Acciaierie d'Italia, convocato per domani martedì 28 settembre alle 18 a Roma ai vertici dei sindacati metalmeccanici per discutere delle prospettive aziendali. E si apre domani e continua fino al 30 settembre a Fiera Milano, Ro Expo Ferroviaria, parteciperà tra gli altri anche Lucchini RS. Fino al 30 settembre poi si tiene anche l'International Stainless and Special Steel Conference 2021 a Como, alla cui organizzazione è partecipato anche il centro Inox. Si aprono sempre martedì 28 settembre anche le giornate di studio di I.I.M. dal titolo Materiali metallici funzionali per l'industria, l'energia e la mobilità. Infine alle 10.30 Milano si terrà la conferenza stampa di presentazione di Emo Milano 2021, la fiera mondiale dedicata all'industria manifatturiera che si terrà dal 4 a 9 ottobre a Fiera Milano Ro in parziale concomitanza con Made in Steel, la principale conferenza and exhibition del Sud Europa per la filiera dell'acciaio organizzata da Siderweb che si terrà dal 5 al 7 ottobre. Siamo a mercoledì 29 settembre, la distribuzione di acciaio iberica in un momento sfidante è il titolo dello SteelNet Forum di Eurometal che si terrà mercoledì e giovedì a Lisbona per informazioni Eurometal.net. I prossimi mercoledì 29 e giovedì 30 settembre saranno inoltre le giornate in cui si terrà la diretta streaming dell'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, i rappresentanti delle principali realtà del settore si confronteranno sul percorso di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sollecitata dall'Europa. Giovedì 30 settembre infine si terrà il webinar di Assofermet, export di Rottami verso il blocco, 90 minuti per fare il punto e discuterne l'appuntamento è alle 15 per informazioni assofermet.it. È tutto per l'agenda che torna puntuale lunedì prossimo. Grazie e buona settimana!